125 No Limits Da giovedì 18 giugno solo su JAPTV Mancano solo due giorni e Voghera dovrà tornare alle urne per scegliere il sindaco dei prossimi cinque anni. I due candidati, i risultati vincenti alla prima tornata elettorale, sono Carlo Barbieri di Forza Italia ed Aurelio Toriani. Una sfida che è stata preceduta da una serie di infinite polemiche, critiche, scontri ed accuse reciproche tra i candidati, vincitori e non, e l'elettorato. Piero Ezio Ghezzi, candidato del Partito Democratico, ha dovuto incassare nella giornata di ieri il No del Tar all'istanza di riconteggio dei voti. La legge infatti lo consente solo in seguito alla proclamazione definitiva del vincitore. Il candidato di centrosinistra ha comunque comunicato di voler proseguire il ricorso secondo l'iter previsto dalla legge e già dalla settimana prossima potrebbero esserci alcune novità, con la speranza da parte di Ghezzi che a settembre possa esserci il riconteggio dei voti. Una situazione che lascerebbe con il fiato sospeso l'intera città, che potrebbe ritrovarsi a dover mettere in discussione queste elezioni amministrative già a rientro dalle vacanze estive. In vista del ballottaggio di domenica, i due candidati continuano a darsi a battaglia a suon di confronti pubblici, dichiarazioni, eventi e materiale pubblicitario. Aurelio Toriani ha ottenuto il sostegno di Diego Di Pierro dal Partito Liberale Italiano e nei nuovi manifesti pubblicitari si è fatto ritrarre con il camice da medico, ribadendo il suo no deciso all'impianto di Pirolisi. Carlo Barbieri punta tutto sul teatro sociale, è proprio di ieri la notizia che il fondatore e patron di Estelunga, Bernardo Caprotti, dopo una serie di trattative con l'amministrazione locale, avrebbe scelto di versare 2 milioni di euro per la riapertura del più importante teatro della città. Grazie a tutti.